Sapeva che stava intraprendendo una lotta col mondo accademico. Perché tante persone non vogliono sentire queste cose? Lei è stato in prima fila per decenni e mi ha esposto tante di queste idee controverse che adesso sono state dimostrate. Bene, sono Graham Hancock. Non affermo di essere un archeologo o uno scienziato. Sono un giornalista e l'oggetto delle mie ricerche è la preistoria umana.